Fatture false e contabilità farlocca per bistecchi a buon mercato, questo il risultato dell'operazione Mystic, condotto dalle fiamme gialle di Pescara e che hanno portato alla scoperta di una maxievasione fiscale nel settore della macellazione del commercio delle carni. Ingegnoso il meccanismo è scogitato per affrodare il fisco ed essere più competitivi sulla piazza. Inizialmente il metodo adottato era il più classico dei sistemi evasivi, utilizzo di fatture false create ad hoc da una bad company riconducibili alla stessa compagine, una vera e propria cartiera che fruttava fittiziamente alla società operativa del gruppo la vendita di migliaia di capi di bestiame e automezzi di trasporto commerciali in realtà del tutto inesistenti. I responsabili del sistema illecito sono amministratori, un prestanome ed un commercialista, quest'ultimo è l'ideatore dell'impianto contabile alterato, incentrato su un doppio livello di artifici. In una prima fase nel sistema contabile venivano registrati fittiziamente acquisti maggiori di quelli reali per generare un falso credito IVA da adoperare poi per abbattere l'imposta da versare. Successivamente per meglio dissimulare tale frode veniva posto in essere un ulteriore artificio consistente nel contabilizzare falsi finanziamenti soci per importi corrispondenti all'indebito credito IVA in modo da far quadrare ma solo formalmente il bilancio d'esercizio. I militari del gruppo della guardia di finanza del capoluogo adriatico su disposizione della locale autorità giudiziaria hanno quindi ora posto i sigilli all'ingente bottino di oltre 3 milioni di euro illegalmente accumulato negli anni. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla procura della Repubblica di Pescara. L'impianto accusatorio è stato avallato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo adriatico che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del maltolto cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie, conti correnti, titoli e polizie assicurative dei sei soggetti responsabili della maxi evasione di complessivi 7 milioni di euro. L'operazione Mistake ha posto termine a tutto questo permettendo il recupero dell'ingente e bottivo illicitamente accumulato ora restituito alla collettività.